Le passeggiate per Vicenza, senza nessun altro scopo fuorché guardarla e riguardarla. Furono uno dei fatti fondamentali della mia formazione. Vi camminavo senza stancarmene mai, giorno e notte. Ero preso da una passione e obbedivo alla sua chiamata. Le opere di Palladio ne erano al centro. Le rimiravo a tutte le ore, da tutti gli angoli, in tutte le luci possibili. Le rimiravo a tutte le ore, da tutti gli angoli, in tutte le luci possibili. Le rimiravo a tutte le ore, da tutti gli angoli. Le rimiravo a tutte le ore, da tutti gli angoli. Una giornata in cui non avessi compiuto il giro di tutti gli edifici dovuti a Palladio, compresa almeno una rapida contemplazione da sotto in su della rotonda, mi sembrava mancante di una sostanza necessaria, lasciandomi quasi il rimorso di un dovere non adempiuto. Grazie per la visione!